voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa amiche amici che siete in ascolto un caro saluto da denise arcieri dopo l'anno dedicato alla riflessione sui documenti e allo studio dei frutti del concilio vaticano secondo papa francesco ha scelto di dedicare il 2024 alla preghiera il 21 gennaio infatti durante l'angelus papa francesco ha aperto ufficialmente l'anno della preghiera un anno per prepararci a vivere bene il giubileo e per riscoprire il valore il bisogno della preghiera a livello personale nella vita della chiesa e del mondo e noi oggi ne parleremo con don mario modica ciao mario salve a tutti un saluto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrice e anche a te denise un anno per riscoprire il senso e il valore della preghiera cosa dovrebbe significare accogliere quest'invito di papa francesco penso che il senso di questo invito che il papa rivolge a tutta la chiesa sparsa per il mondo sta proprio nell'intenzione che il papa ha espresso già in quell'angelus che tu hai citato il 21 gennaio del 2024 che era la domenica della parola è anche un momento importante per l'anno liturgico della chiesa il papa trova il senso di questo anno della preghiera come preparazione immediata al giubileo che avrà inizio proprio il 24 dicembre del 2024 con l'apertura della porta santa nella basilica di san pietro l'intenzione del papa è proprio quella di immergerci anche nel tema di questo anno giubilare che saldi nella speranza e quindi la preghiera diventa allora questo strumento che fa crescere anche noi questa virtù della speranza non soltanto come singoli credenti ma come comunità cristiana e appunto tu già hai accennato quelle parole che il papa ha rivolto ai fedeli in piazza san pietro il 21 gennaio perché l'intento del papa quindi è quello di far riscoprire ai fedeli a tutta la chiesa il valore fondamentale di questa dimensione della vita cristiana che appunto la preghiera come dialogo e relazione intima con il signore il dicastero per l'evangelizzazione ha preparato una serie di strumenti per accompagnarci durante questo anno oltre alle 38 catechesi sulla preghiera di papa francesco è stata pubblicata cura della libreria editrice vaticana la collana punti di preghiera e poi è stato pubblicato il sussidio insegnaci a pregare il titolo di questo sussidio è tratto dal capitolo 11 del vangelo di luca come i discepoli anche noi siamo invitati a chiedere a gesù di insegnarci a pregare cosa dovrebbe significare cosa vuol dire porci questa domanda oggi l'intento di questi strumenti che il dicastero per l'evangelizzazione mette nelle mani dei fedeli e delle comunità parrocchiali è certamente quello intanto di riscoprire il giubileo non tanto come evento della tradizione quanto come evento di grazia perché come ogni giubileo la caratterizzazione principale sarà quella della misericordia dell'indulgenza quindi in questo senso la preghiera diventa una via per poter entrare nel clima del giubileo e per accogliere quindi la grazia della misericordia dell'indulgenza anche attraverso quello che sarà lo strumento del pellegrinaggio che sia i fedeli faranno a roma ma credo che troveranno anche altre forme per poter adempiere questo impegno del pellegrinaggio sicuramente il digastero tu dicevi ci mette nelle mani le 38 catechesi che papa francesco tra il 2020 e 2021 ha proposto ai fedeli eravamo ancora in tempo di chiusura e pandemia quando è iniziato queste catechesi evidentemente in un tempo forte per tutta l'umanità in cui era necessario davvero riscoprire il valore di questo strumento che è la preghiera d'altra parte invece come dicevi tu sicuramente questa dimensione scaturisce dall'esperienza dei discepoli che viene fatta da loro nel vangelo in particolare il vangelo di luca ci riporta questo dialogo tra i discepoli e gesù i discepoli rivolgono al signore quella richiesta insegnaci a pregare perché hanno visto pregare il loro maestro e gesù in quell'occasione consegna la preghiera del padre nostro come sintesi compendio della preghiera cristiana ma anche come modo di rivolgerci a dio in una relazione intima chiamandolo padre addirittura chiamandolo abbà papà quindi in questo appellativo ancora più intimo e familiare i discepoli fanno l'esperienza della preghiera a partire dall'esperienza del maestro dicevo e il maestro allora li porta a vivere una vera e propria scuola di preghiera che anche noi siamo chiamati a riscoprire in questo tempo una scuola di preghiera che ci riporti alla centralità di questo strumento che è data proprio dalla relazione intima con il signore quindi più preghiera e meno preghiere forse potrebbe essere lo slogan di questo anno dicevi instaurare una relazione con dio partendo dalla dimensione dell'ascolto la preghiera ha un movimento che possiamo definire orizzontale cioè entrare in se stessi e fare discernimento è un movimento verticale che rivolgersi a dio costruire un rapporto intimo con dio fino a affidarsi completamente di lui abbandonarsi a lui e riuscire a dire se è fatta la tua volontà con quale atteggiamento entra prendere questo percorso questo cammino di ascolto contemplando sia il movimento verticale e orizzontale intanto credo sia una grande sfida al giorno d'oggi entrare nella dimensione della preghiera perché richiede un esercizio di rientrare in se stessi che oggi non è facile perché il mondo la società vanno di corsa e anche noi siamo travolti da questa corsa e travolti dalle centinaia e migliaia di cose da fare durante la giornata per cui già il movimento di rientrare in se stessi diventa molto difficile e non lo dico soltanto dal punto di vista della preghiera ma già dal punto di vista della conoscenza di se stessi dei desideri più profondi che stanno nel cuore dell'uomo anche in vista di scelte fondamentali per la vita che siamo chiamati a fare penso in maniera quasi costante nelle nostre giornate come dici tu è vero la dimensione della preghiera si costruisce su questi due assi quindi una dimensione orizzontale e una dimensione verticale in fondo possiamo vedere queste due dimensioni che emergono dallo stesso discorso di gesù quando nel vangelo di matteo consegna ai discepoli la preghiera del padre nostro però facendo una introduzione sul valore della preghiera gesù in quel contesto parla intanto di quelle tre dimensioni fondamentali della vita cristiana il digiuno le lemosina e la preghiera e quando parla della preghiera dice quando tu preghi rientra in te stesso nel segreto del tuo cuore della tua casa dice gesù e il signore e dio che padre vede nel segreto ti ricompenserà quindi c'è questa dimensione orizzontale che va verso se stessi e credo che davvero il cuore inteso anche come la dimensione più profonda della persona diventi il luogo diciamo più privilegiato dell'incontro con dio e anche dell'incontro con se stessi papa francesco in queste sue catechesi di cui parlavamo prima spesso ritorna a questa dimensione del rientrare in se stessi la preghiera quindi diventa occasione di conoscenza di se stessi dei propri desideri delle proprie aspirazioni dei propri bisogni e credo che questa dimensione orizzontale vada in due direzioni la prima direzione verso se stessi la seconda verso gli altri perché è vero che se la preghiera è una dimensione strettamente personale di intimità personale con il signore è vero pure che questa intimità non deve mai escludere la dimensione comunitaria quindi da un lato questa dimensione e poi ovviamente la dimensione verticale che è quella che ci eleva verso dio in noi stessi noi ritroviamo dio sant'agostino diceva io ti cercavo fuori di me ma in realtà tu eri già dentro di me e quindi questa ricerca dentro se stessi porta necessariamente fuori a saperci in dio in questa dimensione di dio che ci contiene in qualche modo ci sostiene ci fa vivere mario ha detto che la preghiera ci aiuta anche ad aprirci agli altri alla comunità pregare per la comunità e quindi anche azione in questo senso tra contemplazione azione infatti non c'è separazione ma profonda unione quando però riusciamo realmente a far convivere in modo autentico queste due dimensioni azione e contemplazione papa francesco in una di quelle catechesi ricorda che la preghiera non è una dimensione altra rispetto alla realtà che viviamo alla vita che viviamo tutti i giorni penso che si possa prendere come esempio quella preghiera vissuta dai padri del deserto dai monaci della prima era cristiana in cui si parlava della preghiera del cuore cioè quella preghiera che pian piano tramite l'esercizio anche del pregare diventa una dimensione che raccoglie in sé tutte le dimensioni dell'uomo e quindi diventa una costante nella vita dell'uomo tant'è che di questi padri del deserto dei monaci si diceva che pregassero anche durante la notte mentre dormivano questa è una dimensione molto importante che sicuramente richiede un esercizio la dimensione della preghiera nel concreto può diventare costitutiva di tutta la nostra vita nel momento in cui noi la consideriamo come origine e come punto di arrivo della nostra vita e delle nostre giornate anche le pratiche che fin da bambini a volte ci hanno insegnato di pregare al mattino e di pregare alla sera in fondo non ci dicono l'adempimento di un precetto perché dobbiamo per forza rivolgere il pensiero a Dio altrimenti Dio si offende ma davvero ci dicono questa dimensione sintetica possiamo dire della preghiera come punto fermo della nostra vita quindi una dimensione che include tutta la nostra vita tra le sue braccia e il pregare al mattino significa affidare al Signore la nostra giornata ad esempio il pregare alla sera significa fare sintesi di ciò che abbiamo vissuto lodare e ringraziare il Signore per i doni che ci ha dato ma anche chiedere perdono per il bene che avremmo potuto fare non abbiamo fatto ad esempio quindi questa dimensione davvero diventa una dimensione fondamentale e che regge tutta la nostra vita ma questo si esprime anche in maniera eccellente ad esempio nella cadenza settimanale dell'Eucarestia Domenicale la comunità che si riunisce la Domenica che per i cristiani è il primo giorno della settimana quindi il giorno da cui scaturisce tutto il nostro tempo in fondo dice questo noi da quell'Eucarestia traiamo la forza per camminare durante le nostre giornate nella nostra settimana ma d'altra parte diventa anche il punto di arrivo dei giorni che abbiamo vissuto e lì sulla storia del Signore noi consegniamo tutto il nostro vissuto insieme al pane e al vino un esercizio dunque costante e attento che richiede un percorso consapevole ogni giorno nella nostra vita però in un certo senso la preghiera è qualcosa di nato nell'uomo o nella donna è qualcosa di universale tutti e tutte abbiamo pregato forse anche inconsciamente una volta nella vita anche chi non crede è tipico di ogni uomo farsi delle domande e cercare delle risposte volevo un po' conoscere la tua idea di questo aspetto legato alla preghiera come qualcosa di universale penso che il tema dell'anno giubilare da questo punto di vista può aiutarci è il fatto di attenzionare la dimensione della speranza in fondo chi è quell'uomo che non ha mai sperato in qualche modo nella propria vita credo che sperare sia già in qualche modo pregare è vero che è una preghiera che ha bisogno forse di alcune direttive ha bisogno di crescere, di maturare però credo che già questo sentimento della speranza che è innato di fatto nel cuore dell'uomo come un po' dicevi tu la dimensione della preghiera è già un pregare e credo che anche davvero chi non si professa cristiano chi dice di essere agnostico, ateo a volte anche in quelle domande che rivolge a se stesso ma spesso rivolge a qualcun altro credo che già stia pregando in qualche modo mi viene in mente quell'episodio di Atti degli Apostoli in cui Paolo si trova ad Atene e sappiamo i greggi erano pagani avevano più divinità però per non dimenticare nessuna di queste divinità costruiscono un'edicola ad un Dio ignoto quindi a questa entità astratta magari per loro possiamo dire e Paolo dice ho visto che tra le vostre edicole c'è anche quella al Dio ignoto in realtà questo Dio ignoto a cui voi avete innalzato quest'edicola io ve lo annuncio è il Dio di Gesù Cristo ed è questo Dio in cui noi viviamo, ci muoviamo grazie a cui esistiamo quindi in qualche modo davvero questo episodio può esprimere quell'elevazione nata nel cuore dell'uomo verso qualcun altro che in qualche modo sostiene la vita dell'uomo quindi che in qualsiasi caso diventa non soltanto il motivo del nostro vivere ma anche diventa quel luogo in cui posso io mettere tutto ciò che ho nel cuore i miei pianti, le mie gioie i miei dolori le mie aspirazioni, i miei desideri in fondo pregare significa anche questo e anche entrare in questo dialogo con Dio per noi cristiani non significa soltanto lodare e ringraziare il Signore ma la preghiera penso sia sempre più autentica nel momento in cui noi siamo capaci di dialogare con Dio come con un amico a cui tu confidi le cose più intime della tua vita le cose belle come le cose meno belle come si fa ad educare alla preghiera oggi secondo te? oggi come vi dicevo all'inizio se da un lato quella dimensione più intima della nostra vita non viene valorizzata perché ecco la società e il mondo ci portano altrove anche la preghiera subisce un po' questo indebolimento diciamo per cui sicuramente la comunità cristiana è chiamata oggi a diventare scuola di preghiera come lo fu la comunità dei discepoli guidata da Gesù il Maestro a quel tempo anche per le folle credo adesso invece la Chiesa che raccoglie l'eredità di Gesù deve essere lei a diventare scuola di preghiera e sicuramente la preghiera si trasmette pregando questa è la prima dimensione penso che a volte nelle nostre comunità purtroppo si registra un attivismo che magari ci allontana sempre di più dalla dimensione della preghiera e quindi a volte dimentichiamo che tutto ciò che facciamo dovrebbe avere inizio dalla preghiera e concludersi nella preghiera non soltanto come momento di una programmazione quanto proprio davvero come fondamento della nostra attività quindi questa è una prima dimensione da recuperare e poi davvero fare entrare la gente i fedeli, le persone attorno a noi in quella dimensione di dialogo intimo con il Signore per esempio un aspetto molto bello che il di Castero in quel sussidio evidenziava era proprio la dimensione della preghiera dei giovani che oggi è vero che da un lato riscontra tanta difficoltà ad andare avanti ma dall'altro lato trovo un terreno fertile perché i giovani spesso hanno questo desiderio di spiritualità nel senso più profondo del termine perché davvero nelle scelte più importanti e grandi della vita hanno necessità di andare oltre la dimensione materiale delle cose e quindi rientrare in se stessi per comprendere qual è il cammino qual è la strada, la vocazione tant'è che la preghiera dei giovani è necessariamente legata alla dimensione anche vocazionale nei termini più ampi della vita quindi questa è anche una dimensione che però oltre la categoria giovanile può coinvolgere tutta la comunità oggi più che mai tutti siamo chiamati a riscoprire anche nella preghiera l'origine della nostra vocazione e la corrispondenza a questa vocazione giorno dopo giorno che solo in Dio possiamo trovare effettivamente e poi l'ultima cosa ce ne saranno tante ma mi piace evidenziare il discorso della preghiera come ascolto mettersi in dialogo con Dio appunto dialogo non significa parlare a Dio ma lasciare che Dio ci parli e quindi questa preghiera è necessario che scaturisca anche da un ascolto della voce di Dio nel silenzio da un lato ma anche nell'ascolto della sua parola ringrazio Don Mario Modica per essere stato con noi grazie di cuore grazie a te Denise saluto e ringrazio a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito a presto Denise Arceri avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea un programma della redazione di Radio Caris in Blu Ragusa Grazie a tutti